Per quanto concerne Beniamino Segre, ecco, io mi considero un allievo anche perché è stato il matematico che ha presentato i miei primi tre lavori di ricerca matematica e perciò sono un suo allievo chiaramente ma io non sono solo un suo allievo, io ho migliorato i suoi risultati, va bene? E' uno dei suoi... non posso raccontare tutti i risultati che io ho migliorato di Segre perché sono stato accanto a lui alcuni decenni e lui sempre mi ha considerato come un suo allievo, anzi un suo allievo molto bravo, va bene? Allora, adesso per Beniamino Segre qui io cito un paio di risultati che ritengo di aver ottenuto e che sono l'estensione dei risultati di Beniamino Segre. Beniamino Segre ha pubblicato, scritto e pubblicato un articolo molto importante intitolato Geometria delle matrici quadrate, va bene? Io ho fatto una ricerca su un ambito un po' più generale, cioè geometria delle matrici rettangolari che è un'amplificazione delle matrici quadrate, va bene? E su questo ho fatto seminari all'Istituto Castelluovo di Roma, ho dato lezioni, ho fatto tesi, insomma ho progredito sulla linea di quello che aveva fatto Beniamino Segre. Va bene? Un altro argomento di Beniamino Segre che io ho migliorato e ho migliorato grandemente si trova in questo libro, questo è un libro che io reputo è all'altezza degli scritti dei grandi matematici italiani, Peano, Guido Castelnuovo e Enriques. Ecco, da solo tre, Peano, Castelnuovo e Enriques. Allora, questo libro non teme il confronto con qualunque scritto che è stato fatto in Italia di matematica, pubblicato in libro. Allora, in questo libro, a pagina 219, c'è un articolo che è scritto in italiano. Ora, questo libro mio, che è la mia Bibbia, cioè dove ci sono 40 lavori miei, parte scritti da me, parte in collaborazione, parte in collaborazione, e c'è qui un capitolo intitulato La rappresentazione semi-monoidale di Beniamino Segre. Questa è stata suggerita da me. E come si evince, poi, leggendo l'articolo, si vede che la rappresentazione semi-monoidale di Beniamino Segre è stata suggerita da Mare Ferentini e da Alessandro Lasco. Ecco, io qui non posso, anzi dovrei, fare una piccola parentesi. In questo libro ci sono 40 articoli che sono stati miei, però o miei o da solo o in collaborazione. Va bene? Tra questi 40 articoli ci sono 10 che io ho fatti in collaborazione con Alessandro Lasco. Per cui le sue ricerche e le mie ricerche si confondono. Abbiamo scritto insieme, abbiamo pubblicato, cioè abbiamo, non scritto, ne abbiamo scritti più di 10, perché abbiamo anche degli articoli che non sono ancora pubblicati. Comunque abbiamo 10 articoli che si trovano in questo libro. Adesso io spero di fare un libretto sui 10 articoli che abbiamo scritto in collaborazione Alessandro Lasco e Mare Ferentini, anche perché Alessandro Lasco è morto tragicamente ed è una figura che va riportata. e va riportata perché lui è stato un protagonista di due grandi comunità matematiche. Lui è il cofondatore, è stato il cofondatore insieme a Giorgio Galvora della scuola di geometria algebrica romena, che è una delle più forti al mondo. Ma Alessandro Lasco è stato anche, è venuto in Italia, ha fatto il concorso, è diventato professore e si può considerare un matematico italo-romeno, diciamo, perché ha lavorato in Italia e purtroppo è morto tragicamente e si trova seppellito a Ferrara. Grazie. Grazie a tutti.